Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi vi voglio parlare, o per meglio dire, dirvi un po' cosa ne penso di Outriders Un gioco che ha fatto comunque la sua buona dose di successo Un gioco che era molto atteso in action game in terza persona E titolo di cui si è sentito parlare per molto tempo E che mi ha onestamente molto incuriosito Perché cercavo da un po' di tempo un gioco tipo Warframe Da fare in cooperativa ma soprattutto con visuale in terza persona E quindi ho chiesto una chiave del gioco a Coach Media Che me l'ha offerta, me l'ha mandata per la recensione Li ringrazio veramente di cuore, è sempre un piacere disumano e un onore collaborare con loro Ed ho provato per un bel po' di ore il gioco Che ora poi nel frattempo vi faccio vedere un po' di gameplay registrati in varie parti del gioco In varie spiezioni, seguendo ovviamente a livello cronologico la storia Queste principali e secondarie E vi do un pochino quelle che sono state le mie impressioni Ve ne parlo a breve, dopo la sigla Outriders, gioco della Square Enix come editore È un titolo veramente interessante Che mi ha suscitato particolarmente interesse a livello di meccanica, a livello di gioco e tutto quanto Però è un gioco che ha deluso diciamo in gran parte le mie aspettative Forse non tanto deluso, mi son voluto un pochino deludere da solo Perché avevo un pochino più di aspettative su questo gioco Quando invece si è rivelato non avere tantissime idee originali E non portare veramente quella ventata d'aria fresca che un pochino tutti ci aspettavamo Il gioco vede la storia della Terra Praticamente, ma vabbè, una storia che si è vista trita, ritrita, tremila volte Potrei citare tanti grandissimi capolavori della letteratura Del cinema Primo fra tutti, ad esempio, potrebbe essere un avatar Per farvi un esempio Si va a cercare un nuovo mondo O anche Interstellar Perché la Terra ha finito le risorse Quindi la Terra sta per morire L'abbiamo distrutta completamente E si crea quest'arca con sopra milioni di persone Che dovranno, guidati da dei, tra virgolette, militari O comunque truppe speciali in questo gioco Chiamati appunto gli Outriders Che sono una specie di elite da vanscoperta Dovranno andare a cercare questo pianeta Che è stato individuato a tot distanza E quindi il viaggio è molto lungo Non c'è il viaggio alla velocità della luce Si viaggia ovviamente in ipersonno Quindi dopo tot Magari anni, decenni, se non secoli di viaggio Si arriva in questo pianeta Che però Qui forse è copiato un po' dalla trama di Covenant Alien Covenant Non è il pianeta quello che ci si aspettava Ma è un altro pianeta Quindi non è quello dove proprio C'era stato promesso di andare Che era stato molto studiato dagli scienziati sulla Terra Prima di arrivarci Ma è tutt'altro pianeta Però Sembra poter ospitare la Terra Un Earth-like C'è l'acqua, lo stato liquido Le foreste, l'ossigeno, l'aria respirabile Quindi potrebbe essere una seconda Terra Ma ovviamente arrivati lì Non sarà tutto così Perché verrà scoperta Questa anomalia Che è in grado di cambiare il meteo A livello proprio di impatto immediato Quindi passare da una giornata assolata alla pioggia Però non soltanto Perché questa anomalia Distrugge un po' O altera Va a manipolare la fisica Di questo pianeta Completamente E ha manipolato un po' tutto il creato Plasmandolo e distruggendolo Sembra un po' un'alternanza Fra un pianeta Che potrebbe essere tipo Marte Che viene distrutto Poi torna pianeta verde Lussureggiante con l'acqua Poi viene distrutto Poi viene al potere di plasmare Anche l'atmosfera E plasmare appunto Fare una specie di Se vogliamo anche terraforming E allo stesso tempo Questa Questo potere Di cui non si sa niente Questa anomalia Va anche a creare Dei super uomini O comunque super combattenti Perché ci dà Dei poteri particolari Che è un po' la cosa Che io non ho apprezzato Nel gioco Ma poi ve lo dico dopo Però comunque Ci dà la possibilità Di creare dei personaggi Un pochino vari Quelli dove hanno Poteri d'attacco col fuoco Poteri difensivi Invece per avere più resistenza Poteri curativi E quant'altro Insomma Anche da formare Un party di gioco Comunque abbastanza variegato Dove c'è Quello che fa tanto danno Quello che regge tanti colpi E lo mandi avanti Quello che cura le ferite O quello che fa i buff Buffa tutto quanto il gruppo Quindi dà dei bonus Dei vantaggi Ora Il gioco Le meccaniche Dovrebbero essere L'idea principale Quella di Gears of War Che è tutto quello Che tutti quanti Ci aspettavamo Sistema di coperture Sistema di coperture Che Distruggo un mito Su Gears of War Le devi tenere Perché sennò Ti sfondano Duri veramente 3 secondi Qui all'inizio Le prime 2-3 ore di gioco Ma nemmeno 2 Che c'hai un equipaggiamento Che fa un pochino schifio E quando Corri in mezzo al campo Scoperto Muori Ma già dopo aver sconfitto I primi 2 boss Della storia Senza spoilerarvi niente Che tra l'altro Sfide che non hanno richiesto Nemmeno tanta Tattica Veramente facili Più sparavi Più ammazzavi Più facevi le capriole Tiravi i poteri Più ammazzavi Quindi distruggevi Quindi non è nemmeno stato da dire C'era delle meccaniche Particolari Dei moveset Da imparare Tipo Dark Souls Semplicemente sparare Un volume di fuoco Disumano E il gioco diventa Invece molto più frenetico Che è una cosa Che mi è piaciuta Però le Veramente io vi dico Che lo vedrete tranquillamente Anche dal gameplay Ogni tanto Sfruttavo le coperture Ma più che altro Correvo Sparavo Spammavo I miei poteri E tutto quanto Ora La storia Non mi è piaciuta Per niente Perché parte molto bene Già vista e rivista Però lo sapete Io sono la patria Del visto e rivisto Per me non è un problema Per me puoi fare 190 film Uguali ad Alien Non è un problema Basta che tutti Abbiano quella particolarità In più Per quanto sono ispirati E che riescano a crearsi Qualcosa di nuovo Come dico sempre Come ha fatto La Games Workshop Ha preso un po' Piene ai mani Per Warhammer Vecchio mondo Da tutte le ambientazioni Fantasy possibile Ma si è fatto Un prodotto suo Quindi per me Va bene scopiazzare Però scopiazza Facendo comunque Qualcosa di alternativo Ok Questo gioco di alternativo Come storia Aveva ben poco Se non quella Di arrivare su un pianeta Che bisogna scoprire Già rivisto In tre miliardi Di ambientazioni Però Questi Outrider Questi Questa unità D'elite Davan scoperta Ex soldati Della terra Scelti fra le migliori Truppe Blablabla E poi All'inizio Ti fa vedere Dei personaggi Per dieci minuti A cui un pochino Ti affezioni Il vecchio amico Risvegliato Del tuo protagonista Un soldato combattente Oppure un altro scienziato Che è lì per studiare Un biologo E planetologo Quando poi Dopo un quarto d'ora Di tutorial Viene tutto quanto Lo stravolto Ti viene rimesso Nell'ipersonno Vieni risvegliato Dopo tipo Un'altri 40 anni 30-40 anni Una cosa del genere Tutti i personaggi Che hai conosciuto Sono morti O sono vecchi Decrepiti Quindi non te li sei Manco goduti un po' Fammi ci affezionare E te ti risvegli Con questi superpoteri Da essere Un appena arrivato Sul pianeta Che ha paura di tutto Anche giustamente Ma avrei paura anch'io Di una spora Di un fungo Di un albero Così tanto differente E lontano Da quello visto Sul nostro pianeta Natale O anche semplicemente La fauna Ti trovi davanti All'animale Che magari ti potrebbe Ricordare un cervo Della terra Però non è un cervo Cioè sai come si comporta Magari un carnivoro Cioè non puoi sapere Magari ti attacca Non puoi sapere Niente Soprattutto con la paura Ad andare a contaminare Un ecosistema Che è lì Da milioni di anni E che non si aspettava Davvero la venuta dell'uomo Ti ti aspetti Tante di queste cose E ti vengono subito Stravolte Nel bello dell'esplorazione Che devi andare A esplorare All'inizio Ti dà una parvenza Di avatar Andiamo a vedere Come è questo pianeta Come evolve Cosa c'è Bellissimo No Viene tutto quanto Distrutto Ti risvegli Ancora una volta Dopo 50 anni Una cosa del genere E Non contenti Ti ritrovi con questi Vieni preso dall'anomalia Che ti dà dei poteri Disumanamente Cioè Ti diventi praticamente Patriota Di The Boys Forse anche più forte Hai questi poteri qui E il tuo personaggio Diventa automaticamente Un ignorante Uno sborone Che Anche nei dialoghi Che fai Sempre Te l'avevo detto Che ti avrei ucciso Oppure Cioè Proprio si vede Che se ne burla Di questi poteri Che ha da un'ora di gioco Nemmeno da Dopo 50 ore Piano piano Dopo un'ora di gioco Se ne burla E si sente Il super eroe Messo in terra Un dio che gioca A fare il dio Ed è Troppo fuori luogo Veramente Perché sarebbe stato bello Un tirocinio Questi poteri vanno avanti Star Wars L'ultimo Quello che è uscito Con Kyle Kestis Che piano piano Lui acquista poteri O per meglio dire Li riacquista Perché è un po' come Kyle Katan In Jedi Outcast L'aveva persi Dopo l'ordine 66 Li va piano piano A riacquistare Riprende padronanza E soprattutto Coscienza Dei poteri Che ha tenuto latenti Per troppo Troppo tempo E piano piano Li riacquista Ma lui stesso se ne stupisce Dei poteri Piano piano Che li sblocca Non fa mai Per quanto è un Jedi Molto potente Kyle Kestis Seconda Un Luke Ma non fa mai Lo sborone O comunque Se ne vanta Di queste cose Non soltanto perché è un Jedi Ma perché comunque Il plot è la trama Il plot è la trama del gioco C'è un percorso Di crescita Che qui non c'è C'è Ti sei lo sborone Di turno Con frasi Ed effetto Te l'avevo detto Che non mi avresti sconfitto Adesso rimane Soltanto una cosa da fare Finire la mia missione Col ponteste L'ammazzi C'è nemmeno un po' Di dialogo A scelta molte Per tutto quanto Quindi a livello di storia Non mi ha preso A livello di meccaniche È bello frenetico Non siamo a livelli Di warframe Comunque Il DS secondo Dopo warframe Viene questo E ricorda un po' Nelle meccaniche Anche di DS Ne abbiamo un personaggio Che deve evolvere Poteri principali Poteri secondari Equipaggiamento Quindi Vi troverete 70 milioni di armi Nello zaino E andrete sempre A prendere quella Col valore più alto Fino a che non trovate Un'arma che vi piace Particolarmente Come volume di fuoco Città e tutto Tornate in città La modificate E vi tenete quella Oppure un equipaggiamento Che vi garba esteticamente Quindi è inutile Mettersi qualcosa Di più potente Ma più brutto Preferisco potenziare Quello Che mi piace di più Ecco esteticamente Quello lo facciamo tutti E sotto questo punto di vista Ti dà tanto scopo Perché la storia è lunga Le missioni secondarie Sono veramente Un trilione Che a volte dici di no Agli NPC Perché ce ne è già troppe E la mappa di gioco È bella grande L'endgame Anche comunque Ho visto che ci sono Varie cose da fare E in più Farcito Come anche se vogliamo Della Ubisoft Un assassin creed Con missioni settimanali Missioni mensili Quindi comunque Contenuto ce n'è E questo è anche un gioco In cooperativa Perché Outriders Il massimo lo dà Assolutamente in cooperativa Non lo giocate da solo Perché ve lo rovinate O magari potreste In alcuni In alcuni frangenti Anche un pochino Perdere la pazienza Perché magari morite Troppe volte Non ce la fate a tenere Sotto controllo Tutti i nemici Anche perché La difficoltà del mondo Va sempre a salire E questa è una cosa Che ho apprezzato Da morire Piano piano che uccidete Almeno che non la resettiate Voi stessi La difficoltà Si alza di un punto Per rendervi Il gioco più interessante Perché se no è normale Diventate talmente Tanto potenti E lo siete Che distruggete tutto E fine del gioco Bello Cioè sto fermo Picio un tasto E ammazzo tutto Invece non è così Le boss fight Non sono molto interessanti Però comunque ci sono E ci sono anche Dei mostri giganteschi O comunque Dei boss come voi Che erano magari Outrider O che hanno ricevuto poteri Tramite l'anomalia E il gioco è Insomma Confezionato Confezionato sicuramente bene Le aree Sono micro aree Caricate un po' All'half life Se vogliamo Caricate e chiuse Quindi non è un open world Un open world fittizio Che potete andare dove volete Ma le aree sono chiuse E prestabilite Quindi non vi aspettate Di potervi spostare Ci sarà sempre un caricamento Di mappe e cose del genere E la componente GDR Ecco sicuramente A livello di dialoghi Non c'è Ogni tanto ti fa fare Due scelte Ma non due scelte Che cambiano la storia Due scelte che Ti posso domandare Cos'è successo all'arca Rispetto a cos'è successo Alla terra Ma finisce lì A livello di GDR Componente del personaggio Si può giocare molto Sui tratti Abilità e cose del genere Equipaggiamento Quello si Ora La domanda che mi pongo Io E che penso un pochino Tutti ci siamo posti Alla fin fine Ma nel 2021 2020 2021 C'era bisogno Di un Hat Riders C'è con giochi Come Destiny 2 Bellissimo Aggiornatissimo Ora ritornato In mano a Bungie Quindi ancora più aggiornato E se lo portano avanti Come gli pare L'ho prodotto O un Warframe Aggiornato Veramente a paura Ormai Battaglie navali C'è veramente di tutto Mac Robotoni altissimi C'è di tutto Open World Ma c'era bisogno Di un Hat Riders Cioè se ne sentiva La mancanza Di un gioco del genere Questa skill L'ho già trovata In un altro gioco Questo equipaggiamento Cioè non c'è Non c'è novità Rispetto a un Warframe Un Destiny O un altro gioco Non c'è Se uno Non avessi mai provato Sti giochi E si trovasse a provare Per la prima volta Un gioco del genere Manco Gears of War Giocasse Out Riders Allora forse Ci potrebbe essere Veramente l'idea Non geniale Ma comunque carina Ma dopo Non ho citato poi anche Cosa È The Division Cioè dopo giochi Del genere Ma c'era veramente Bisogno di una cosa così O si poteva Tranquillamente Passare oltre Secondo me Forse passare oltre È un po' troppo esagerato Però è un gioco Di nicchia Ed è un gioco Che ho paura Che non durerà Nemmeno più di tanto Perché mi aspettavo Qualcosa di più A livello di gameplay No Non mi aspettavo Qualcosa di più Di quello che sto facendo A livello di storia Sì Cioè mi fai arrivare Su un pianeta La cosa più bella Indagare su un pianeta Flora Fauna Ho detto ti immagini Ora con delle specie Di micro rilevatori Faccio il planetologo Oppure anche Sintetizzatori Io devo andare In giro Come Mass Effect Andromeda Una cosa che ho adorato A scannerizzare O anche No Man's Sky A esaminare le piante Cioè Gli animali che trovo Sarebbe stata una cosa bellissima Oppure il tuo protagonista Che quando vede Una creatura aliena Per la prima volta Se la fa addosso Veramente No Ehi Chi hai Tre corne in testa Invece che due E gli spara Cioè Non c'è veramente Il piacere della scoperta Di un nuovo mondo C'è soltanto Il riuscire a capire Perché tutto è stato distrutto Da questa anomalia Cioè Del mondo Non se ne frega più nessuno Sì Trovi degli olo diari Dei diari Delle cose del genere Però dei journal Ma finisce tutto lì Quindi Per me È un gioco Assolutamente Che non mi è piaciuto Lo dico Onestamente Tutto quanto Non è un gioco brutto Tutto quanto Però è un gioco Che a uno Che li ha provati Tutti questi titoli Non ha aggiunto Nemmeno Una virgola E mi dispiace Perché mi aspettavo Qualcosa di più Ribadisco A livello di storia A livello di gameplay Va bene com'è E anzi È abbastanza divertente A livello di storia Di personaggi Di plot È tutto Zero ma Zero meno Io ringrazio Coach Media Per avermi offerto Questa chiave Per la recensione E fatemi un pochino Sapere Cosa ne pensate Nei commenti Ovviamente Il gioco si trova Acquistabile Direttamente Su Steam Ciao ragazzi Alla prossima Alla prossima